per luigi lattuada grazie di essere qui nuovamente stanno suonando le campane però vabbè quindi vuol dire che sono le otto possiamo anche fare un piccolo warm up e aspettare magari se abbiamo qualcuno che ci raggiunge con uno due minuti di ritardo come sta questa sera dottore padre vediamo si sono preso con le faccende tecnologiche beh allora rispetto all'altra volta abbiamo un grande improvement quantomeno è pubblico questa volta intanto ringrazio tutte le persone che hanno assistito al primo incontro indifferita perché l'abbiamo solo ripubblicato visto che sarà pubblico è pubblico perché lo vedo sul telefono quindi ti dico che hai fatto tutto giusto ma perché di zero persone raggiunte possibile ah no no ci sono nove persone che ci stanno vedendo ciao 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 amiche ciao amici stanno già mandando i primi cuoricini quindi vuol dire che se siamo ce l'abbiamo fatto è qualcuno che ci sta vedendo d'accordo a facebook questi marchi ingegni pazzeschi allora bene intanto se qualcuno vuole dar visto che sto tenendo aperto il telefono se qualcuno ci vuole mandare anche un feedback sull'audio insomma se tutto va bene con la trasmissione ci fate un piacere ecco ciao eva iniziano a scrivere quindi te lo dico io intanto che va tutto bene francesco ciao pier ciao valentina ciao caro ecco vedi queste sono le prime conferme quindi ringraziamo tutti dai allora nel frattempo io direi come stanno le rape si sente bene claudio tutto perfetto fantastico grazie di essere qui in questo venerdì sera ma come non siete in discoteca no scherzo tu sono battute di cattivo gusto allora innanzitutto tema della serata benessere integrale dieci passi verso il benessere integrale siamo con il dottor pierluigi lattuada medico psicoterapeuta presidente di it integral transpersonal institute della scuola di psicoterapia transpersonale riconosciuta miur di milano del corso di formazione in counseling transpersonale integrale autore di numerosi libri riconosciuto in tutto il mondo so che detto così da figlia sembra strano ma è esattamente la verità una ricerca anche della stable university ti ha nominato come uno dei keynote più importanti di sempre del transpersonale quindi è un altro motivo quantomeno per di gratitudine se non altro se non ce la vogliamo menare possiamo essere contenti di alcune insomma di del del rich dell'impatto che hai avuto durante la tua carriera e che stai ancora avendo queste sono conversazioni come vedete informali sono un padre una figlia ma che lavorano insieme quindi è un è uno spazio sia sui contenuti importanti che ha da condividere il dottor lattuada sia su uno spaccato insomma di quella che è la nostra quotidianità che collaboriamo insieme in vari progetti ciao serena grazie grazie a tutti collaboriamo a vari progetti nella fattispecie eh oggi anche presentiamo eh questo corso online che finalmente è lanciato su dieci passi verso il benessere integrale così come abbiamo lanciato nei mesi precedenti introduzione alla biotrans energetica di cui sei fondatore disciplina psico spirituale dal 1982 che hai fondato insieme a mamma la dottoressa marlene silvera che poi è sviluppato fino a oggi nella nella sua forma di bte zero eh e quello eh a cui tengo molto è farti appunto chiacchierare come ti conosco io ok perché come professore ti conoscono in tanti come maestro come insomma come terapeuta ti conoscono in tanti ma queste piccole sessioni vogliono anche mh far conoscere insomma la parte più più informale di te condividendo gli stessi contenuti sei d'accordo con questa visione è tutto tuo ok questo questo spazio e questa scelta è tua quindi perché generalmente ti invito sul mio instagram così lì mi sento ancora più a mio agio però penso che sia importante far arrivare questi contenuti alla pagina della biotrans energetica anzi a proposito chi sta passando qua per caso può andare nel primo post in evidenza della della pagina dove troverà anche il link al corso che stiamo presentando e piccolo recap dell'ultima volta abbiamo parlato di fiducia abbiamo parlato di intento abbiamo parlato di un benessere che non può essere tale se non è integrale quindi abbiamo parlato di interconnessione abbiamo parlato di di impatto di responsabilità sulla propria salute sul proprio benessere da dove vogliamo iniziare oggi dottore vuole le slide o andiamo a braccio o vuole una domanda no voglio iniziare da una riflessione o appena in questi giorni qualcuno sa tra gli amici che ci stanno seguendo tipo eva che abbiamo saputo e risaputo di un paio di nostri amici formati di che da tanti anni che hanno entrambi hanno sviluppato stanno lottando diciamo così con un tumore e quindi vorrei perché beh intanto da un da un pensiero ovviamente di presenza e di luce e di vicinanza e poi vorrei proprio fare delle riflessioni su questo perché noi parliamo di benessere integrale e come dire poi ci sono le malattie poi ci sono le persone che si ammalano realmente c'è una certa medicina che sappiamo bene essere per carità una avanzatissima dal punto di vista tecnologico però quello di cui quello su cui metto l'accento quando parliamo di benessere integrale sono due aspetti uno è come dire noi il nostro organismo il nostro sé è fatto per stare bene è fatto per realizzare se stesso è fatto per essere in armonia è fatto per trasformare quelle che sono le le sfide quelle che sono le traumi nei quali viviamo che che affrontiamo nel mondo e quindi come dire noi dovremmo essere fatti per essere in grado di di guarire e stare bene però questo non succede sempre ovviamente e allora e allora uno si interroga e allora ci sono diversi sguardi no è ovvio di fronte alla malattia intanto ci sono diversi sguardi in base se sei sano se è malato perché se sei sano hai uno sguardo diverso sulla malattia che non se ci sei dentro e poi uno sguardo diverso per esempio se senti dentro di te una certa forza una certa no una certo slancio oppure se invece non lo sento ti senti stanchi del seguito o anche a uno sguardo diverso in base a se aderisci a una certo sguardo materico non nel quale consideri l'essere umano come un insieme di processi biofisici sui quali intervenire oppure se consideri appunto l'essere umano come una unità integrale con una come un un sé per cui ha senso parlare di benessere integrale se noi ci concepiamo ci vogliamo concepire come un essere integrale se noi percepiamo dentro di noi che la nostra vera natura è unitaria e non è divisa per cui cosa vuol dire essere unitari non divisi non è un concetto che noi possiamo comprendere pensandoci non è un concetto che noi possiamo comprendere aderendo a un modello di medicina non è qualche cosa che noi possiamo comprendere studiando è un concetto che noi possiamo attingere realizzare stando dentro e stando in contatto ora io direi che quindi il grado di contatto con gli stessi determina la nostra capacità o meno di comprendere cosa si intende per benessere integrale per cui realizzare benessere integrale vuol dire prima di tutto in qualche modo padroneggiare le esperienze interiori comprendere che la guarigione parte da dentro e se noi pensiamo alla nostra vita vediamo invece come tutto è organizzato per considerare la guarigione un fatto che venga fuori è così diffuso che come dire uno dovrebbe ripeterlo costantemente ma com'è com'è che non ci accorgiamo che la guarigione parte da dentro com'è che non ce lo dicono che la guarigione parte da dentro non è che non dedichiamo com'è che non dedichiamo il tempo a renderci conto di che cosa significa la guarigione parte da dentro grande domanda il nostro organismo è fatto per guarire noi abbiamo la capacità di stare con noi stessi ma il nostro organismo si ammala e noi non siamo in contatto con noi stessi quindi sto intervenendo poco perché ho dei pianti in casa a proposito di informalità se apro il microfono c'è la savana che comunque ho seguito ogni parola ripetere da ripetere infatti questo è il secondo webinar che stiamo facendo alcune cose ovviamente che ho detto la volta scorsa le sto ripetendo ma stiamo dentro stiamo dentro riconosciamo che cosa significa stare dentro riconosciamo che cosa significa che la guarigione parte da dentro allora un percorso di benessere integrale ci vuole insegnare a cosa significa che la guarigione parte da dentro a me cercare di rendere provo a rielaborare in una maniera molto semplice molto easy allora senza stare ad entrare in questo momento in una questione di salute medica dal punto di vista fisico come abbiamo iniziato iniziato con degli esempi anche di malattie molto importanti ok che sono alcune anche le malattie del nostro secolo e quello sarebbe un altro tutto un altro capitolo da affrontare soprattutto con te che sei medico e penso che possiamo per adesso anche lasciarlo un attimo da parte pensando però a tutto quello che può essere tutte quelle malattie o tutte quelle o quei disagi o quei malessere che sono diciamo in una scala inferiore o comunque più padroneggiabile che possono causare invece malattie croniche o malattie di una certa importanza come quelle che hai nominato prima ovvero quando parliamo di stress quando parliamo di attacchi di panico quando parliamo di coliti di gastriti parliamo di tachicardie parliamo di non so tutta una serie di dolori o di appunto disagi che siamo abituati a risolvere con qualcosa di molto immediato adesso proprio vedevo in questi giorni la nuova pubblicità della pillola per l'ansia no? per dire forse in questo senso un percorso come quello del benessere integrale può farti fare un piccolo switch di attenzione e farti riprendere un po' il lo so che è sbagliato in in biotransenergetica per far capire i nostri amici a casa riassumere il controllo della nostra del nostro benessere che quello che tu chiameresti padronanza quello che tu chiameresti responsabilità no? quindi in qualche modo partire da tutti quelli che possono essere considerati dei sintomi e vedere che cosa ci stanno raccontando e andare ad agire lì in una parte molto più interna di quella del sintomo che invece è molto più apparente o sbaglio ci sono una serie di come dire di affermazioni che sono in un certo mondo sono anche abbastanza ormai comuni no? tipo appunto che cosa mi vuole dire il sintomo il sintomo è un alleato eccetera eccetera è vero che è il sintomo è un alleato ma se io cerco di ascoltare il sintomo attraverso la mente attraverso il pensiero cerco di dare una spiegazione cerco di trovare un significato al sintomo che venga da fuori allo stesso modo io non riuscirò a rendermi conto di che cosa realmente sta succedendo no? questo che cos'è il sintomo se non una manifestazione ancora una volta di qualche cosa che viene da dentro e quindi io per cogliere il messaggio del sintomo ancora una volta devo stare dentro no? siamo focalizzati su questo punto che credo che sia il primo punto che è la guarigione che è la guarigione parte da dentro cioè io vorrei che cercassimo di comprendere pienamente che cosa significa che la guarigione parte da dentro pensiamo alla quercia faccio sempre esempi simili la quercia è il seme, la ghianda la ghianda cresce partendo dalla forza impressa all'interno della ghianda quindi se noi fossimo una ghianda come fai ad essere in contatto con questa forza e rispettarla con questo potenziale immenso che c'è? pensa in questo esserino qua c'è dentro tutta la forza per diventare una porce enorme così come pensa nel nostro ovulo e spermatozoo c'è tutta la potenza per diventare quello che diventiamo, quello che siamo, per vivere tutta la nostra vita allora comprendere che la guarigione parte da dentro vuole dire essere, riuscire a percepire, a stare in contatto con la forza vitale con quanto è potente questa spinta interna che ci guida perché quindi c'è un altro aspetto fondamentale che è, dicevi, la fiducia al cospetto della forza noi non possiamo far altro che affidarci ora molti possono concordare sul fatto che sia bella la fiducia e che sia bella la forza vitale ma cosa succede? succede che quando tu sei in contatto quando tu arrivi al momento nel quale devi mettere in atto un atto di fiducia per esempio dicevi l'ansia mi viene l'ansia cosa faccio? nella grande maggioranza dei casi cerco di farmela passare cerco di farmela passare o attraverso delle strategie oppure attraverso dei farmaci e questo è assolutamente legittimo ma questa è una scorciatoia questo è qualche cosa comunque che non prende in considerazione il fatto che il nostro organismo è fatto in modo tale da che tutto è perfetto così che l'ansia è perfetta così che l'ansia è la guarigione non è la malattia non è il sintomo da far sparire l'ansia è la guarigione è il processo di guarigione stessa quindi pensa all'atteggiamento interiore che devi avere per comportarti come se l'ansia fosse la guarigione oggi parlavo con una mia cliente di come l'ansia che le torna ogni tanto molto meno rispetto a prima però che ogni tanto le torna è come se fosse quella lucina che si accende quando si dimentica di accorciare le distanze tra ciò che è e ciò che agisce o tra ciò che è e tra ciò che fa e ciò che invece vorrebbe vorrebbe fare detto così adesso l'ho semplificato un po' però questo questo scollamento che c'è tra la nostra natura tra la nostra identità tra il nostro sentire tra il nostro essere è quello che poi invece agiamo per sulla spinta di diverse voci che invece seguiamo voci interne nella nostra programmazione o del nostro ego o del nostro come diresti tu bimbo ferito o di tutta una serie di altre voci che possiamo avere dentro e che generano determinati tipi di emozioni o guidano anche le nostre azioni può essere questa separazione tra la nostra vera essenza e come invece ci esprimiamo nel mondo questa distanza può essere una delle cose da guardare quando l'ansia ritorna a farci visita c'è un detto in inglese che è come è the last word the better meno parli meglio meglio è cioè la comprensione noi stiamo cercando di spiegare come comprendere il fatto che l'ansia sia per esempio un alleato ma lo diventa è evidente se noi restiamo in contatto con l'ansia invece di fare altro diventa evidente come sia un alleato perché si mostra l'ansia ci porterà cosa ci porta? ci porta paure ci porta desideri ci porta appunto uno spazio tra quello che siamo e quello che vorremmo diventare l'ansia è energia libera che si mette in moto e che ma se noi rispondiamo all'ansia con ok mi affido a te ok ti consento di manifestarti di esprimerti e di guidarmi se noi ci comportassimo come se l'ansia fosse la nostra maestra in quel momento quante volte noi ci comportiamo come se il dolore l'ansia il problema il conflitto fosse il nostro maestro viviamo costantemente in un'ottica di separazione tra bene e male tra ciò che ci piace ciò che non ci piace ciò che è giusto ciò che è sbagliato e affrontiamo il nostro benessere o malessere con la stessa ottica quando invece è vero che il nostro organismo è fatto per guarire ma la sua legge è dinamismo incessante la sua legge è incessantemente il due che si fa uno la sua legge è incessantemente fluire e trasformarsi allora se io metto al cospetto di un limite io mi aggrappo questo limite io ho combattuto questo limite io lo giudico io lo considero come un problema da e non lo considero non mi comporto come se è la guarigione fa parte del processo di trasformazione e non ci metto la fiducia necessaria non ci metto non fluisco insieme io creo le basi per qualsiasi altro futuro ma l'essere si crea un circolo vizioso che cercherà di rimettere a posto le cose perché quando parlo di benessere integrale per esempio sono molto critico rispetto a tutti quegli approcci che fanno tante cose insieme no? un approccio integrato cioè faccio un po' di questo un po' di quello un po' di quello è comunque mettere insieme le cose è comunque non accorgirci che le cose sono già insieme quindi benessere integrale vuol dire prima di tutto resta e accorgiti che tutto è uno che non c'è separazione tra tra soggetto oggetto tra quello che vive e quello che ti succede non c'è separazione è una cosa sola è che quello che ti succede è semplicemente lo specchio è lo specchio se qualcuno ti fa arrabbiare e tu te la prendi con chi ti fa arrabbiare o anche se cerchi di no mi ha fatto arrabbiare però cerco di perdonare lo stesso sei nel dualismo non ci accorgiamo che lo specchio che il mondo è uno specchio chi mi ha fatto arrabbiare e io che mi arrabbio siamo lo stesso processo e se io vedo per come faccio io a vedere che io e il mondo siamo lo stesso processo ancora una volta devo restare osservare fluire anziché cercare una soluzione anziché proiettare anziché valutare no ma io sono sei tu che mi hai fatto arrabbiare sei tu che mi hai fatto questo siamo costantemente separati costantemente divisi cioè alla base di ogni è ovvio che poi come dire ogni man mano che il malessere la malattia il disturbo va avanti assume infinite forme è multifattoriale ci sono ovviamente i fattori i genetici i fattori ambientali i fattori alimentari i fattori emotivi ci sono fattori infiniti ma prima di tutto questi fattori su che cosa agiscono? agiscono su un essere umano che ha delle sue leggi su un organismo che ha una sua legge e la sua legge è uno è fatto per essere in armonia due in realtà non è separato dal suo ambiente e lì perché c'è anche l'altro l'altro punto che che evolve sono io l'ambiente perché che evolve sono io l'ambiente io e cosa e ciò che ho intorno io e con chi entro in contatto perché io e te siamo uno non siamo due e ovviamente sembra una cosa un po' strana ma come io sono io tu sei tu certo che sì certo che sì anche ma questo è il fenomeno della percezione questo è come come è fatto il nostro cervello e come funziona la nostra mente che separa per conoscere ma il fatto che io e te ci viviamo separati non vuol dire che il processo della vita non sia unitario e non vuol dire che la guarigione è un processo di trasformazione incessante che si realizza se noi rispettiamo una certa legge e che non si realizza se noi non rispettiamo la legge e la legge è la legge della trasformazione è la legge del due che si fa uno è la legge della non dualità ce lo ripeto questo è un altro fatto abbastanza incredibile cioè ce lo ripetono da millenni è scritto è scritto cioè quel buon anima di Buddha se ne è stato quanto nelle grotte e nelle cose per comprendere la non dualità la non dualità eppure che spazziamo nella nostra vita la non dualità chi ti parla di non dualità e se ci pensi lo pensi come un concetto mentale appunto non duale sì cosa vuole dire la non dualità è un'esperienza a benessere integrale cioè se tu sei integrale cioè se tu tieni se tu non separi ricordo e lo dico sempre integrale vuol dire non toccato non toccare niente alleati al processo lascia scordere il processo e fai la cosa giusta fare la cosa giusta vuol dire di conoscere la legge e la legge è una legge di non separazione che lo puoi sentire solo dentro di te cosa vuol dire non due però quello che adesso quello che volevo dire è che lo sanno tutti se uno semplicemente si prende legge i saggi dell'umanità ce lo dicono ma nessuno ne parla o pochissimi e nessuno si comporta davvero così noi non ci comportiamo tanto più in emergenza vedi pandemia o vedi anche ma è lo stesso quando hai un mal di denti quando hai un mal di testa quando hai un po' di febbre quando i tuoi figli hanno non ci comportiamo mai come se tutto fosse uno non c'è separazione è il processo di cura in corso che va rispettato posso? prego non solo come ci ricordi da millenni e da secoli e secoli di letteratura poi ragazzi cerco di leggere anche le vostre domande o collocazioni ma la scienza da un secolino o comunque da alcuni decenni ci spiega questa cosa esattamente io personalmente che lavoro con la manifestazione e quindi che ha le sue dodici adesso anche venti leggi c'è la legge dell'unità e della non dualità e insomma è una delle leggi che è spiegata sia dal punto di vista filosofico metafisico culturale e mistico energetico ma anche dal punto di vista scientifico il fatto che siamo realmente uno e siamo in espansione all'interno di un universo in espansione costantemente dove controlli dove chiudi dove strutturi in maniera rigida sei contro la stessa forza vitale nella quale sei immerso perché sei siamo parte noi come siamo parte noi di un universo in espansione e come noi guardiamo cioè noi noi siamo separati perché la nostra mente che decodifica così la realtà però è semplicemente una questione di funzionamento cerebrale o sbaglio cioè no non sbaglio però ti sto mandando aggancio per per parlarne se vuoi dal punto di vista scientifico se no vado avanti io non voglio prendere spazio a te che sei il master però effettivamente più mi sto intrippando sempre di più con tutto l'aspetto scientifico sia dalla manifestazione che questa interazione energetica del tutto del campo oppure le due domande o riflessioni fatte una da Serena e l'altra da Eva allora Serena dice credo per arrivare a comprendere che sono complementari adesso ti dico che sono complementari perché una dice ci vuole tanta consapevolezza e fiducia e la te dice quindi è una questione di mappe mentali sì tutte e due cioè mappe mentali cioè io guardo quello che succede e da quello che succede io posso trarre una idea corretta o un'idea falsata se io mi affido alle apparenze vedo un sintomo che mi fa male e dico brutto cattivo ti devo fare andare via e questo ovviamente è una mappa i sintomi le malattie sono un male che va combattuto è una mappa mentale giustamente e poi Serena dice ci vuole tanta frucia di consapevolezza certo se tu pensi che la malattia è un male ci vuole tanta frucia di consapevolezza ma se noi restiamo e ci accorreggiamo che ok non è che la malattia per accettare la malattia la malattia deve essere bene la malattia fa male la malattia è brutta il dolore è brutto non è bello ma qui ci stiamo chiedendo qual è il modo la via migliore la via più giusta per guarire la via più giusta per non sentire più quel dolore la via più giusta per non avere più bisogno che arrivi quello lì a bussarmi alla porta non stiamo dicendo che ah che bello che bello che ho l'ansia e il mal di testa e nel frattempo sono depresso no questo sarebbe ancora la mente duale che dice no non devi dire che è cattivo che è brutto devi dire che è bello no non è bello è brutto non si sta bene ma quindi qual è l'atteggiamento migliore questo che questo non buono non bello no no è lo specchio di qualche cosa d'altro che mi dice guarda che stai chiedendo questo alla vita cambia chiedi qualche cosa d'altro alla vita rispondi in modo diverso alla vita quindi sì tu dici ci vuole fiducia anche certo ma diventa evidente se tu ti accorgi se tu ti accorgi che il mondo è uno specchio fai semplicemente la cosa giusta rispondendo a quello che ti viene chiesto della vita la vita ti dice sei arrabbiata la vita ti dice sei triste e depresso cioè ti rimanda no? ti fa ok non c'è differenza è sempre qualche cosa che nasce dal profondo del mio essere è sempre là dove io ho bisogno di andare in questo momento è quello il dono è passandoci attraverso e standoci dentro che io posso vedere e favorire la trasformazione cioè favorire quindi che la rabbia diventi diventi pace o accoglienza favorire che il dolore diventi piacere e così via avendo questo atteggiamento unitario nel quale smaschero tutti i tentativi di separazione questo è uno dei punti oggi stiamo parlando in particolare di questo aspetto della benessere integrale questa non separazione tra soggetto e oggetto o meglio accorgerti che io e il mondo siamo uno io e il sintomo siamo uno mi piacerebbe rispolverare un attimo la base no? ovvero sì tu hai parlato di abitudine abitudine alimentare hai parlato di condizioni ambientali o comunque no? ambiente in generale in cui siamo inseriti hai parlato di genetica hai parlato di tutta una serie di cose ovviamente questo integrale riguarda anche il nostro essere stesso ovvero i cinque livelli che volevo un attimo rimettere nella conversazione e quindi sono piano fisico piano mentale piano emotivo emozionale piano energetico e piano spirituale o transpersonale o insomma la 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 zona di noi dove la magia succede attraverso insight visioni dove c'è il reame della coscienza della consapevolezza e del ho voluto mettere l'accento quest'oggi o meglio è finito così il discorso è finito su questo aspetto del non due perché se noi comprendiamo non due tutto il resto comprendiamo che tutto il resto è una conseguenza cioè certo noi viviamo l'esperienza della nostra esperienza del mondo avviene su diversi livelli materico fisico energetico emotivo mentale spirituale questi sono quelli che chiamo i veicoli il mondo ci entra dentro attraverso questo insieme di contenuti su tutti questi livelli di conseguenza noi viviamo delle esperienze su tutti questi livelli e siamo un organismo complesso ma questo organismo complesso in una relazione ipercomplessa con il mondo e quindi con tutti questi fattori molti appunto molteplici vanno tutti a finire nel processo della vita che è polarità e ritmo che è dentro fuori che è io e te quindi se io perché metto l'accento su questo perché se io che ne so io faccio una buona alimentazione ma di dentro sono separato ma di dentro ho l'idea che sto combattendo il male questa buona alimentazione va al servizio di una legge perversa che sto combattendo questo vale per il cibo vale per le emozioni vale per lo sport se io vado se io faccio sport ogni giorno ma faccio sport perché devo essere in forma per combattere il male ancora una volta o per essere il migliore o per essere sempre più in forma o per essere sempre più performante non sto rispettando la legge la legge è dialogo partecipativo che rispetta la legge dell'incessante trasformazione questo prima di tutto e poi per questo che dopo gli atteggiamenti possono essere diversi per realizzare questo ma io mi devo accorgere e come dico tutto quello il sistema del nostro pensiero razionale della nostra il pensiero scientifico attuale è adatto per farci sopravvivere è adatto per farci appunto vivere a lungo e vivere decentemente non c'è dubbio non c'è dubbio ma il benessere integrale non è qualche cosa che riguarda questo pensiero scientifico e questa medicina stiamo parlando di un'altra cosa e stiamo parlando a chi interessa quest'altra cosa che è la piena realizzazione di sé che è il rispetto della legge universale che è il riconoscimento della non dualità che è il riconoscimento che tutti i nostri corpi sono insieme quindi quando lo riconosco sì ci vuole fiducia e consapevolezza ma quando l'ho riconosciuta ci vuole soprattutto il coraggio di comportarmi di conseguenza sì perché inizia nel momento in cui lo leggi lo vedi o fai un corso di questo tipo inizia ad osservare ad avere è proprio un cambio di visione di mondo che da prima succede magari in maniera più timida ma poi diventa sempre più evidente quindi penso che questo corso sia anche qualcosa di super adatto per chiunque si affacci per la prima volta a un tipo di di approccio di questo tipo è per questo che lo ritengo così importante perché può essere veramente qualcosa che fa fare una trasformazione totale fondamentale a chi magari ha già studiato tanto o chi già è più vicino a questo tipo di pensiero sicuramente per qualsiasi livello diciamo però può anche essere una grandissima base per iniziare a pensare in maniera diversa iniziare ad osservarsi iniziare a guardare le cose con uno sguardo diverso iniziare a assumere una responsabilità diversa su noi stessi a guardare questa interconnessione cioè a riconoscerla perché in realtà è sotto gli occhi di tutti è sotto i nostri occhi cioè quello di cui tu ci parli è qualcosa che diventa evidente una volta che veniamo in contatto con questo tipo di narrativa di approccio quindi penso che io adesso prima di leggere un'altra cosa di Eva se vuoi o se no di lasciarti finire con qualcosa io volevo dire che innanzitutto chi volesse può mandare un messaggio un DM qua su su Facebook che ho pensato possiamo regalargli le slide del corso le slide integrali del corso quindi chiunque stia vedendo o live o indifferita questo questo video può mandare un messaggio qua direttamente su Facebook in DM e vi mandiamo le slide quindi per iniziare a guardare un po' di cosa stiamo parlando anche nero su bianco e poi fino ai prossimi due giorni solo questa settimana abbiamo il 50% di sconto sul corso quindi è un prezzo davvero davvero basso spendete sicuramente molto di più su Amazon in una settimana e quindi questo innanzitutto vi invito a vederlo abbiamo ancora il corso di introduzione alla biotrans energetica che aiuta anche a a fare insomma ad alimentare un po' questa visione di cui stiamo parlando e non so vuoi che legga cosa ha scritto Eva o vuoi andare avanti tu adesso tra poco chiudiamo ok Eva dice fiducia coraggio responsabilità la via del cuore io non so se riusciremo a risponderti Eva però provo a leggerlo parlaci delle cellule neuronali del cuore come funzionano e qual è il loro effetto sui restanti miliardi di cellule corporee mi viene in mente molecole di emozioni pensi che sia tanto aprire questa porta adesso o vuoi darci una frase d'effetto no quello che sto pensando è che noi in questi due incontri stiamo parlando e abbiamo deciso di parlare quindi di non dedicarci a fare pratiche anche se questo linguaggio lo si comprende come tutto per la verità ma tanto più qualche cosa che riguarda come dire la totalità dell'essere umano lo si comprende maggiormente nell'ascolto nel silenzio e nella pratica interiore piuttosto che non nelle parole però certamente a proposito di mappe anche questo è abbastanza miracoloso al contrario cioè tu Eva parli di molecole di emozioni un libro straordinario e fondante cioè questa non so forse non sapete questa Candace Perth quando era giovane una giovane ricercatrice faceva probabilmente ancora il tirocinio e ha avuto questa intuizione e si è detta lavorava in un ambulatorio che studiava una sua tossicodipendenza in un laboratorio e si è detta ma se l'eroina e gli oppiaci funzionano sull'organismo vuol dire che ci sono i recettori e allora ha cercato i recettori e ha detto ma se ci sono i recettori li ha trovati poi ha detto ma se ci sono i recettori allora vuol dire che ci sono delle sostanze prodotte dall'interno che altrimenti perché ci sarebbero i recettori e li ha trovati che sono le formose endorfine piuttosto che una serie di peptidi opioidi però la cosa più straordinaria è che ha visto che questi erano distribuiti non solo nel cervello come si dovrebbe ci si dovrebbe aspettare ma praticamente per farla breve in corrispondenza dei chakra cioè nei vari in corrispondenza delle varie aree ovviamente dove ci sono tutta una serie di gangli sia nervosi che ci sono organi precisi come appunto la tiroide del cuore e via di seguito i reni sul reni eccetera c'è una grande concentrazione di questi di questi recettori cioè praticamente questa buona donna ha dimostrato l'esistenza del corpo-mente che la mente è nel corpo e che il corpo è nella mente per cui capite che è così forte la resistenza tutti parlano del corpo e parlano della mente ancora oggi chi non parla del corpo e della mente no? ok no ma questo è un problema fisico no ma l'ansia è un problema emotivo no ma la paranoia è un problema mentale chi non parla così e semplicemente è una mappa sbagliata per stare con quello che ci aveva semplicemente io ho parlato dei meditatori di 4.000 anni fa che ci dicevano questo ma ce lo dice la scienza ce lo dicono le neuroscienze ce lo dice la Candor Sperte e tutti i ricercatori no? della psiconeuroendocrina immunologia la mente è nel corpo il corpo è nella mente e quindi dovremmo smetterla di parlare di disturbi emotivi di disturbi mentali di disturbi fisici il disturbo o comunque la manifestazione è integrale viene sul palcoscenico un aspetto ma dietro le quinte ci sono gli altri questo è un altro punto cruciale per il benessere integrale infatti spesso curandolo su un livello si presenta poi su un altro certo curandolo nel senso opprimendolo capita è descritto nella storia quei rari casi di psicosi nelle persone psicotiche praticamente è rarissimo il tumore in rari casi nei quali c'è una guarigione da psicosi capita che poi venga il tumore ma al di là di questo cioè è assodato in tutti i sensi in tutti gli ordini da quello dei ricercatori mitici spirituali quello dei ricercatori della psico-neuro-endocrinologia che la mente è nel corpo e il corpo è nella mente dovremmo semplicemente comportarci di conseguenza allora un corso così operare di benessere integrale vuole dire va bene allora vediamo quali sono le regolarità se è vero che il corpo è nella mente la mente è nel corpo se è vero che quello che esiste è il corpo-mente come facciamo ad occuparci del corpo-mente ci sono una serie io ho messo dieci dieci step ci sono una serie di punti di cui noi possiamo accorgerci e ovviamente agire di conseguenza per rispettare il corpo-mente per fare sì per aderire alla visione delle cose come sono cioè che la mente è nel corpo il corpo e nella mente e questo vuol dire ridotto ai minimi termini benessere integrale cosa vuol dire comportarmi così io vi ho dato alcuni spunti questa volta che è cogliere che non c'è separazione cogliere che il mondo mi fa da specchio restare allearmi al processo e fluire un insieme partecipare alla trasformazione stare nella fiducia non giudicare bene o male non cercare il risultato ma sapendo che il risultato è un effetto collaterale questi sono alcuni dei punti base che stanno alla base di una regione di un'intervenzione integrale ma che si basano su acquisizioni appunto come quello di molecole di emozioni il corpo nella mente la mente nel corpo punto su questo non c'è e non ci dovrebbe essere nessuna discussione come tutti gli studi che spiegano della seconda mente nell'intestino anche no? a proposito di abitudini alimentari di emozioni è uno dei grandi aggregati certamente uno dei grandi aggregati certo l'intestino come nel cuore dell'inseguito e anche per tornare al discorso della consapevolezza eccetera più che consapevolezza ci vuole buon senso ci vuole svegliarsi da allora siamo costantemente sognati da questo sogno diviso da questo sogno parziale da questo sogno per il quale il corpo la mente le emozioni sono divisi sono separati basterebbe svegliarci basterebbe volerci svegliare e la buona notizia è che tutto è pronto per svegliarci lo dico sempre ormai tutto è pronto per svegliarci perché è vero che se noi accendiamo qualsiasi tv o qualsiasi social siamo immersi dal pensiero unico ma abbiamo abbiamo anche l'opportunità di guardarci intorno a proposito di fare corsi così o di cercare e di comprendere che è tutto pronto per svegliarci è tutto pronto per svegliarci questo sarà anche uno dei punti chiave dei corsi che stiamo proponendo è il momento la trasformazione è adesso quindi si serena ci vuole consapevolezza e fiducia ma questa nasce naturalmente non è se uno pensa che l'essere umano è fatto per stare nella non consapevolezza nella paura e nel controllo si ci vuole consapevolezza e fiducia ma è tutto pronto per essere fiduciosi e consapevoli perché per esempio siamo corpomente perché per esempio il mondo ci fa da specchio e viene per insegnarci se volete pensate in termini cristiani la misericordia la misericordia divina la provvidenza che cos'è la provvidenza se non la legge se non questo sé che tende ha l'armonia e ha la e ha la al bene tra virgolette pensate a metti il concetto di sé vicino al concetto di Dio o di Cristo dei dei cattolici sostituite a tutto quello che la Chiesa dice su Cristo e mettetelo al posto mettete al posto sé e trovate che cosa vuol dire benessere integrale seguire il sé oppure Cristo è dentro di noi certo Cristo è dentro di noi è il principio di armonia è il principio del sé è l'archetipo unificante è dentro di noi certo e allora cerchiamo di agire in modo tale da fare sì che si realizzi ecco il benessere integrale bene fantastico e lascia tutte seguimi di Cristo il sé dice lascia tutte seguimi punto io sono la via la verità e la vita punto il sé è la via la verità e la vita chiamalo Cristo se vuoi e non è blasfemia è semplicemente buonsenso è aprire gli occhi segui il tuo Signore lascia tutte seguiti basta che non credi che il seguiti sia l'io ma il sé beh dai che ne dici salutiamo salutiamo chiudiamo allora io ripeto c'è dieci passi verso il benessere integrale che adesso è veramente a un ottimo prezzo al 50% per ancora fino a questo fine settimana e poi basta c'è anche il coupon flash 50 sul corso integral si integral ciao introduzione alla biotrans energetica quindi questo è il momento ideale per farsi questo tipo di regalo questo tipo di update chiamiamolo come come vogliamo per ricevere degli ottimi download io qua volevo solo dire una cosa rispetto ai social che hai nominato prima le notizie che hai nominato prima c'è un aspetto bellissimo in tutto ciò che può aiutare la fiducia è quello di comprendere che questa macchina che non ha visto aspetta c'è un c'è un documentario che si chiama non mi viene più in mente la rete sociale no vabbè vi spiego in poche parole il fatto che chi cerca trova sia per il RAS reticulate activating system sia per come funzionano i social come funziona internet questa polarizzazione che si crea e che si è creata sempre di più che ha tantissimi aspetti negativi ma neanche positivi vuol dire che più tu cerchi informazioni vicino alla tua sensibilità più ti aggreghi segui commenti condividi cose della tua visione di mondo più ne avrai quindi saper usare coscientemente i social e sapere fare un bel decluttering di tutto ciò che non alimenta questa tua nuova visione o questa fiducia o questo coraggio questa consapevolezza fai un unfollow inizia a seguire tante altre persone come te perché ce ne sono tantissime quando tu dici la trasformazione adesso io in questo lo credo non solo da un punto di vista interno di cuore e di volontà ma anche perché lo vedo cioè quando io apro i social per me è una un'espansione un respiro perché vedo un sacco di gente come me in giro per il mondo che parla che condivide che mette poi vabbè ci sono sempre quelli più naif quelli più fricchettoni quelli più super nerd ce n'è in ogni modo in tutte le lingue quindi il mio invito è stick with us cioè state vicino a noi commentiamoci condividiamoci parliamone alimentiamo questa visione di mondo e anche fatelo con tante altre persone che nel mondo insomma non solo la pensano così ma studiano in questa maniera condividono in questa maniera positiva non dualità o comunque di unità di specchio del mondo di campo condiviso insomma volevo spezzare una lancia a favore perché anche questo sarebbe rimanere nella dualità nella polarità i social non sono brutti cattivi social usati soprattutto in questo momento che magari non abbiamo la stessa capacità di movimento di pre-pandemico e presto anche torneremo alla normalità sicuramente ma adesso se avete tempo e modo dedicatevi a seguire le cose che vi fanno bene che alimentano questa visione e che condividono questa questa idea o questo sentimento di la trasformazione adesso basta svegliarsi questa sono io vi ringrazio il link lo trovate sulla pagina grazie mille al dottor Pierluigi Lattuada che papà che mi segui in queste in queste interviste in queste dirette e soprattutto dopo le tue quarantamila ore passa di lavoro clinico di gruppo di studio insomma quale fai formazione trasformazione e che usando lo slogan la tagline è guarire il futuro guarire il passato vivere il presente e realizzare il futuro apprezzo tantissimo che vieni qui a condividere insomma con tutti noi la tua visione di mondo che è molto preziosa grazie Vale grazie a tutti ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti